Le mille e una notte. I viaggi di Simbad. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso. La benedizione su nostro Signore Maometto e sulla sua famiglia. Cominciamo con l'aiuto dell'Altissimo e il suo perfetto soccorso a comporre il racconto delle vicende di Simbad il marinaio e di Simbad il facchino, che vivevano ai tempi del califo Arun al-Rashid. Incontro di Simbad il marinaio e di Simbad il facchino. Si narra, ma Dio è più addentro di noi nelle cose recondite, più informato di noi sugli eventi trascorsi, più edotto su quel che racconta la gente del popolo, si narra che al tempo del califo Arun al-Rashid, c'era a Bagdad un uomo, chiamato Simbad il facchino. Era poverissimo, al limite della miseria, e portava fardelli dietro ricompensa. Un giorno, nell'ora del caldo più intenso, dovendo trasportare un carico pesante sino a un luogo particolarmente lontano, fu assalito dalla disperazione, e ben presto l'ansietà e l'angoscia presero a tormentarlo. Siccome la calura si faceva sempre più opprimente, tanto che gli sembrava di essere in una vera e propria fornace, e il suo corpo grondava di sudore, si disse, cerchiamo un vicolo che sia rinfrescato da una corrente d'aria, o addirittura, chissà, dal soffio di un vento leggero. Camminò ancora un poco, e arrivò in un posto dove il suolo era stato spazzato e asperso d'acqua di rose. Nell'aria si avvertiva il sentore del legno d'aloe, bruciato sul fuoco, unito a quello dell'ambra grigia. Accanto a una porta c'era un largo sedile di pietra. Il facchino vi depose il fardello, poi sedette per riposare, riprendere il fiato e ritrovare un po' di forza. Mentre se ne stava così in riposo, a un tratto fu sorpreso dai fluvi deliziosi che uscivano dalla porta socchiusa, e avevano tutta l'aria di emanare da piatti quanto mai succulenti. Il facchino li respirò con piacere. Intese allora, provenienti dall'interno della casa, le note armoniose di un'arpa persiana e di un liuto, in accompagnamento a voci incantevoli che declamavano dei versi straordinari. Si immaginavano belle donne, intente a pizzicare le corde degli strumenti, abbandonate al piacere della melodia, impreziosita del suono di un flauto. Cinguettando ciascuno nel suo idioma, rispondevano loro uccelli quali la tortora, la calliope, il merlo, l'usignolo, il colombaccio, il chiurlo di terra. A tutta prima, il facchino fu preso da una grande meraviglia, e subito dopo da un vivo impeto di gioia. Respirò a pieni polmoni le diverse fragranze, profumi di muschio, d'ambra grigia, di legno d'aloe, vapori stuzzicanti di pietanze rinomate come carni arrostite, rosolate, stufate, aromatizzate o fritte in padella nel più appetitoso dei modi. Fece alcuni passi e scoprì, al riparo dei muri di cinta, un vasto e ornato giardino, quale poteva darsi soltanto nella dimora di un re o di un sultano. Fra il giardino e gli appartamenti attigui andava e veniva uno stuolo di domestici, belli come lune e vestiti di sontuose tuniche dai colori smaglianti. Spettacolo questo che colmò di piacere gli occhi del facchino, sprofondando il suo animo in una quiete beata, e gli domandò. Di chi è questo posto? Gli venne risposto. Di Simbad, il marinaio. Provò una stretta al cuore e disse fra sé. A che prosgo pare come faccio io? A che mi servono le pene che sopporto? Poi improvvisò i versi seguenti. Qui un ingordo fa incetta di ricchezze rubate e di ombra propizia, mentre io inseguo qualche verdura per sopravvivere e non ho neppure la fortuna di trovarne. Costoro si concedono una buona digestione, sazi di piaceri raffinati, mentre io chiedo soltanto di avere la mia razione quotidiana, che è sempre irraggiungibile. Infine, alzando gli occhi del cielo, disse. Gloria a te, oh Signore. Sei tu il mio bottino, oh creatore di ogni cosa. Tu che determini gli eventi con la tua volontà. Oh Dio, Dio nostro, imploro il tuo aiuto contro l'intensità della mia fatica e della mia pena. Ti chiedo perdono delle mie colpe e mi pento dei miei vizi. Mio Signore, non faccio obiezioni alcuna contro il modo in cui tratti le tue creature. Nessuno deve farti domande sulla tua condotta. Tu sei perfettamente addentro alle cose che a noi sono nascoste. La tua onnipotenza si esplica illimitata su quel che hai deciso di portare a compimento. Gloria a te, oh mio Signore. Alta sia la tua posizione. Forte sia il tuo potere. Tu fai ricco un uomo che è dedito al libertinaggio. Rendi povero un altro che vive nella tua obbedienza. Il proprietario di questa casa si chiama Simbad e mi chiamo Simbad anch'io. Io mi trovo nella miseria e nell'affaticamento estremo che tu sai e sopporto ogni giorno della mia vita la disgrazia e la pena senza potermi sfamare neppure con un pane d'orzo. Ecco adesso toribelle, senza provare né fatica né angustie, ogni giorno della sua vita assapura al benessere. Si abbandona agli impeti della gioia. Si distrae. Passa il tempo negli agi e nelle delizie. Abbraccia ogni corpo d'aspetto fresco e armonioso che gli si offra. Costoro accrescono la loro felicità con ogni sorta di piaceri, di possessi e di godimenti temporali. Oh Dio, alta sia la tua posizione. Forte sia il tuo potere. Perfetta sia la tua condotta nelle faccende di questo mondo. Oh Signore, la tua clemenza sia esercitata verso tutte le tue creature e tu hai concesso loro i tuoi favori, ma fra di loro ve ne sono che godono la quiete, mentre altre, estenuate e sempre prive di piaceri, diventano di giorno in giorno più miserabili. Detto questo, chino agli occhi a terra, sospirò di rammarico e col cuore triste recitò i versi seguenti. Ah, quanti infelici, privi di ristoro e quanti ricchi si riposano nell'ombra più gradevole. A me tocca sopportare una fatica sempre maggiore, condannato a subire una sorte insensata, portatore di un fardello sempre più opprimente. Diversamente da me, un altro, fortunato, non subisce sventure e ignora persino che cosa sia la pesantezza del mondo sotto la quale io soccombo ogni giorno. Alcuni gustano il piacere tutta la vita, abbandonandosi agli agi e ai giochi del potere, provvisti di cibo e bevande a sazietà. Eppure tutte le creature hanno origine da una goccia del medesimo liquido, io come costui e costui come me. Eccoci compagni di ventura, cui ha offerto il medesimo soccorso, ma quale differenza tra noi? La stessa che corre tra il vino e l'aceto. Ma io non voglio mentire riguardo a te, oh Signore, perché tu sei saggio e hai giudicato con giustizia. Dopo un momento soggiunse, oh tu, che vai mendicando il cibo quotidiano, cercandolo per ogni orizzonte, risparmia le tue forze, perché tale nutrimento è spartito fra gli esseri in modo alquanto singolare. Si offre a colui che non lo cerca e chi lo cerca ne rimane privo, colui che va reclamandolo ovunque. Sinbad aveva appena finito di recitare i suoi versi, quando un domestico uscì dall'edificio principale. Sembrava godere di ottima salute, offriva allo sguardo un corpo perfetto ed era addobbato di vesti sontuose. Venne avanti sino ad avvicinarsi al facchino, poi gli prese la mano e se lo trascinò dietro, dicendo, entra in questa casa e vieni a parlare col mio padrone che ti manda a chiamare. Il facchino non poteva resistere a un simile invito. Attraversò il giardino al seguito del domestico e giunse così nel vestibolo della sontuosa dimora. Era costruita a regola d'arte e sembrava composta di un grande numero di stanze. Qui mise giù il suo carico e lo affidò ai buoni uffici del portinaio. Inoltrandosi, si trovò in una sala accogliente con quattro pedane sopraelevate, ciascuna dominata da una bella arcata di pietra. Il centro della stanza si fregiava di una splendida vasca, ravvivata da uno zampillo alimentato da un serbatoio che ne garantiva la pressione. Lungo le pareti si aprivano finestre, che davano tutte sul giardino, sistemato nel modo più armonioso e disposto in guisa che lo zefiro vi potesse espirare con tutta suavità. Gli uccelli che vi si trastullavano sembravano conversare fra loro, vi scorrevano piccoli ruscelli che confondevano insieme le acque e gli alberi si picavano sotto i frutti sino dai rami più alti. Il facchino venne introdotto in una sala, dove era radunata una numerosa compagnia, illustri maestri, grandi mercanti, circondati da convitati d'aspetto più modesto. Dinanzi a loro era posta una tavola carica di piatti succulenti dai più svariati colori, disseminata di bruciaprofumi e di caraffe dove erano state messe a decantare le bevande. Intorno si affacendavano giovani servi di una bellezza priva di qualsiasi difetto e altrettante fanciulle splendide, simili alla luna piena quando sorge all'orizzonte. Tutte tenevano in mano strumenti musicali perfettamente adeguati a far nascere la gioia nei cuori. Il facchino si avvicinò a quella bella assemblea e disse «la benedizione sia su di voi». Poi baciò la terra in segno di rispetto e disse fra sé «questo posto non ha l'eguale se non in paradiso». I convitati risposero al suo saluto e gli diedero il benvenuto. Nell'esaminare attentamente l'adunanza, egli distinse fra i presenti un uomo seduto al posto d'onore. Gli anni non lo avevano schiorato granché se non lasciandogli una rada chioma bianca. Il suo volto si guardava con piacere. Sembrava che nessuna infermità lo avesse deteriorato. A quanti aveva intorno ispirava timore rispettoso e venerazione insieme. Nella sua qualità di padroni di casa, l'uomo salutò il nuovo ospite una seconda volta, gli diede il benvenuto, lo fece salire sulla pedana e lo invitò ad accomodarsi al suo fianco. Dopo avergli rivolto alcune parole cortesi, gli servì cibo e bevanda e lo trattò tanto amichevolmente che l'emozione e la timidezza che agitavano l'animo del facchino fecero presto a calmarsi. Quando costui ebbe il cuore tranquillo e il corpo rilassato, Simbad il marinaio lo interrogò. Come ti chiami fratello? Di che paese sei? E che mestiere fai? Padrone, rispose il facchino, e io mi chiamo Simbad il facchino, poiché pratico il mestiere di trasportare fardelli e grazie a ciò riesco a guadagnarmi il pane quotidiano. Non ho altra occupazione se non quella di portar carichi. Sono un forestiero, il più povero che ci sia, e non possiedo nulla. Se lavoro così, è soltanto per avere di che sopravvivere giorno dopo giorno. Il padrone di casa gli sorrise e dichiarò, sì il benvenuto nella mia casa, facchino. La tua presenza ci fa onore. È per noi un grande piacere parlare con te. Io mi chiamo come te. Io sono Simbad il marinaio e tu Simbad il facchino. Adesso sei diventato per me come un fratello, ma se ti ho fatto chiamare è perché tu mi faccia sentire di nuovo i versi che hai recitato poco fa sulla porta di casa mia. Io me ne stavo presso la finestra, li ho uditi e mi sono piaciuti. Simbad il facchino provò una certa vergogna per essersi lasciato andare a parlare a voce alta un istante prima, mentre si stava riposando presso il portone. Per Dio che è sopra di te, disse al padrone, non serbarmi rancore per quelle parole. L'eccesso di fatica, le sventure subite di continuo, la pena, la scarsità di denaro. Sono tutte cose che ingenerano stoltezza nell'uomo e gli fanno dimenticare le regole della buona educazione. Così ho parlato senza riflettere. Scusami. Non vergognarti di questo, replicò Simbad il marinaio. Non hai nulla da temere. Il facchino recitò di nuovo gli stessi versi. Simbad il marinaio li ascoltò attentamente e gli piacquero una volta di più. Lo ringraziò e infine gli espresse la sua gratitudine, rallegrandosi con lui per essere a corso così prontamente al suo invito. Poi soggiunse. Sappi, facchino, che sono stati i mercanti e i notabili della città a chiamarmi Simbad il marinaio. Questo ozio, questa vita paradisiaca, tu hai creduto che mi fossero toccate senza aver durato la minima fatica, senza essermi scontrato con le difficoltà, senza venire oppresso da grandi sventure. Lo giuro su Dio. La mia pena, fra tutte quelle che gli uomini sopportano, è stata la più intensa. Il mio tormento, fra quanti hanno messo alla prova i miei simili, è stato il più violento. Gli spaventi, la fatica, le afflizioni che ho subito, getterebbero la mente e la fantasia degli uomini nella stupefazione più completa. Eventuali ascoltatori, soltanto all'udirne la narrazione, sentirebbero la loro riserva di bile assai prossima a scoppiare e la loro intelligenza a smarrirsi, anche se si trovassero a essere di quelli cui si dà il nome di uomini esperti. Tacco un istante. Poi continuò rivolto a tutti gli ospiti. Signori, ascoltate il racconto di quanto mi è successo nel corso dei sette viaggi che ho affrontato. Ora vi esporrò nei particolari le pene e le difficoltà che ho sopportato, le mille situazioni in cui sono stato messo alla prova, le morti tremende e orribili che per poco non mi hanno annientato e alle quali sono sfuggito. Si tratta di storie davvero singolari, di avventure sorprendenti e meravigliose. A questo punto Simbad il marinaio comandò che si incaricasse qualcuno di portare a destinazione il fardello di Simbad il facchino. Finalmente, non appena l'ordine fu eseguito e la faccenda sistemata, egli riprese la parola e si accinse a narrare la storia del primo dei suoi viaggi, che sono il numero di sette.